Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Per traffico, coda inoltre verso Roma, tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. La Firenze Mare coda per traffico, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Firenze. In Fipelli rallentamenti per gli spostamenti mattutini tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta verso il capoluogo. Uno sguardo al traffico ferroviario, informiamo che le vigliterie di Montecatini Centro e Sesto Fiorentino quest'oggi sono chiuse al pubblico. Il traffico urbano di Firenze, in vista dell'avvio della tratta conclusiva della linea 1 della tramvia fino a Careggi, ha preso via ieri il preesercizio. Dieci tram percorrono quindi il nuovo tratto, simulando il futuro esercizio. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!